Il palazzo Arezzo di Trifiletti a Ragusa Ibla, il salone con lo splendido soffitto affrescato trasformato in spazio teatrale per ospitare uno dei capolavori di Luigi Pirandello. Così è, se vi pare, regista Walter Manfret, appuntamento di spicco della rassegna palchi diversi. Io da tempo lavoro a un tipo di teatro che è il buon Ugo Ronfani, che è un famoso critico italiano a cavallo fra il novecento e il duemila, denomina teatro della persona. Cioè io vado cercando lo spettatore per affidargli un ruolo all'interno del racconto che io gli faccio. E lui deve diventare un personaggio del mio racconto. Siccome questo testo è ambientato in uno spazio circa come questo, una casa alto borghese del primo novecento, questo posto mi ha suggestionato per la bellezza. Poi io non amo il teatro con moltissima gente. Qua ce ne vanno 60, diciamo, stretti. In genere ho fatto anche spettacoli con 20 spettatori e 40 attori. Quindi insomma ho capovolto un po' il rapporto. Quali sono gli altri appuntamenti di rilievo di questa rassegna? Gli altri appuntamenti sono intanto un Gran Varietà Godot, che è un tuffo nell'avanspettacolo. Poi abbiamo Storia di Medea, che vede in scena Federica Bisegna e anche il sottoscritto, che è appunto di Euripide. E poi Finale di Partita, che riproponiamo anche quest'anno, visto il grande successo dell'anno scorso. Da quanto tempo esiste la compagnia Godot e cosa fa? La compagnia Godot esiste dal 97 e nasce dall'esigenza di produrre degli spettacoli autonomi anche nel territorio, e fuori dal territorio ragusano. Noi siamo attori dal 90, dopo 20 anni di carriera da stritturati al Piccolo Teatro di Catane, col Teatro Stabile, con vari teatri regionali e nazionali, ci siamo dedicati al territorio e nel 2005 abbiamo fondato la rassegna teatrale Palchi Diversi. Perché Palchi Diversi? Palchi Diversi appunto è nato all'inizio con l'esigenza di poterci spostare, sfruttando un po' tutti gli spazi teatrali, soprattutto, ma anche spazi non prettamente teatrali, non convenzionali. Anche se ultimamente, grazie anche all'apertura del nuovo teatro comunale di Ragusa a Quasimodo, faremo degli appuntamenti anche in un teatro più tradizionale, o al Teatro Ideal, che è un altro spazio teatrale, sempre a Ragusa superiore, di 150 posti. E invece, nello specifico, abbiamo voluto aprire la stagione in uno spazio che non è un teatro e che invece è un bellissimo palazzo nobiliare nel cuore di Ragusa Ibla. Quindi è il teatro che va incontro agli spettatori, in qualche modo. Esatto, è proprio questo, perché nel teatro di Walter, il teatro della persona, che lo ha reso famoso anche a livello internazionale, si crea un rapporto strettissimo tra attore e spettatore e entrambi diventano personaggi, protagonisti della storia. Ma lei vuole burlarsi di noi?